La differenza la si sente come l'hanno finito una settimana fa, il lavoro è durato all'incirca un mese e mezzo e l'asfalto nuovo va dal centro di Minusio fino a quasi il confine di Tenero. Quelli che abitavano qua avevano dei grossi problemi perché è molto trafficato questo pezzo. Prima era molto rumoroso, invece adesso comincia a calare un pochettino e si vive meglio senza rumore. L'abito verso il Tenero è la camera verso la strada, sento una netta differenza da prima adesso, si dorme molto meglio decisamente anche quando il cammino non sente proprio le macchine, una cosa fantastica. Si vive meglio quindi? Molto meglio, per fortuna ho fatto veramente un bel lavoro. Ma si nota sicuramente tanto, il problema è che l'asfalto ci aiuta a diminuire il rumore, però il traffico è aumentato tantissimo, comunque si sta un tantino meglio.